Il commissariato di Fano ha attivato recentemente in due casi di violenza di genere la procedura chiamata Codice Rosso sotto la titolarità della Procura della Repubblica di Pesaro. Nel primo caso, secondo le indagini svolte dal commissariato di Fano, al cui interno opera un'unità specializzata per le violenze di genere, l'ex compagno della donna che ha sporto denuncia si è reso responsabile di atti persecutori e tentata estorsione. La situazione della donna, oggetto della morbosa gelosia manifestata dall'uomo dopo la loro separazione, si è progressivamente aggravata passando in pochi mesi da pesanti esternazioni verbali, appedinamenti, gravi intrusioni, per sfociare infine in atteggiamenti minacciosi rivolti anche contro la figlia maggiorenne della coppia, verso la quale l'uomo nutriva risentimenti per motivi economici. Per questo, l'autorità giudiziaria ha applicato nei confronti dell'uomo la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa e del divieto di comunicare con la stessa. Nel secondo caso, la donna, prima di rivolgersi ai poliziotti del commissariato, ha supportato per lungo tempo pesanti sopraffazioni e umiliazioni da parte del convivente, una situazione ulteriormente aggravata dalla comune gestione di un'attività commerciale. L'uomo le ha inflitto per anni continue sofferenze fisiche e morali, rendendole la vita impossibile ed estendendo le umiliazioni anche all'ambiente lavorativo, denigrandola e sminuendo nelle capacità professionali. Dopo la denuncia, i poliziotti hanno attivato la procedura del Codice Rosso con il coordinamento dell'autorità giudiziaria, che ha applicato nei confronti dell'uomo la misura cautelare dell'allontanamento immediato e del divieto di avvicinamento alla vittima. Grazie. 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 Grazie.